Ma sono stato miracolato eh, quindi purtroppo i miracoli non li prendo Non li ho i miracoli, vabbè qua mo si rush, ho capito come funziona il tutto Abbastanza una cavolata Quindi avessi potuto usare la GL potenziata al massimo, devo metterlo i lead e avrei preso meno danni Che ci aveva giustamente lead 200% Il fisico non è da un bordello, ma in realtà con lezze dell'int più che giocabile Ci sono pure abili di basso qua su gioco Tu stai per morire ma alla fine sei morto Infatti stavo per morire, ma comunque alla fine si esplosa sempre Ma è il miracolo con pochi HP Ma andiamo a destra, che credo che sia più veloce Credo Ci tappiamo dopo, se ci sarà un dopo 5 milioni mai visti in via mia forza se il fisico Se il fisico può arrivare a caricare pure di più eh, col buff in turno Credo che tocchi 7 o 8 full hub Non mi ricordo il mio sub global quando tocco Però fa male con i giusti link Qua Cell dovrebbe demolirlo in teoria Bravo Cell Non è ancora Cell fisico Ma non è che ti perdi sto grande LR È carino Si vive bene anche senso Facciamo così In realtà l'aveva la forza di Cell fisico è nel torneo C'è la 12 kg, pazzesca Ma l'arte se il fisico uno lo gioca solo come linker principalmente Bravo Cell Ha fatto tutto lui Ho detto che la Vegeta era più che lui Vabbè ma ci manca Mr. Satan la merda Mr. Satan into Goku Veloce, veloce Eh addirittura, quando mi fa sto special? Madonna, si, Mr. Satan più forte che io abbia mai visto Nella storia dei Mr. Satan Porca donna, l'ho bustato a me Se il fisico linker finché è AGL Cell non va in forma perfetta Eds Si perché se il problema è AGL ci mette 30 anni Pure questo evento Pure se c'è AGL Secondo me non lo vedi in fase finale Se c'è un team con abili di alta Shot i primi Forse Gohan, forse l'ultima fase 36 6 milioni Questo mi pare che abili di uno il mio sul drop Un crittino No, un add No, un cazzo E Goku se ne va Giusto? Certo che no Ma certo che no Beh, recuperiamo altri 2 HP Ok E il Goku se ne va Potremmo tenere Gohan Potremmo tenere Gohan per Doh Anche perché abbiamo visto che gli Android Tech Prendono 300.000 dalla special Questa dipende quante roba prendono Ok Torniamo dal signor Gohan Bastardo Adesso appena vado subito la fase dopo WIS STR Ok 1 2 Quando è il selfisimo? Mamma mia Abili di 1 Mi ricordavo bene Vediamo Basta che non mi fa special Proprio su quei 2 attacchi Se il fisico Sì Krillin La penultima fase Mi ha fatto 600.000 di special Su 6 int Posso solo che immaginare Bravo Bravo Mangiatelo Sto Gohan Abbi la vendetta Che non hai mai avuto 2 E Ecco Individiamo la spesa Su chi la fa Secondo me Sul selfisimo Però non lo so Manco un crit Ah L'handa l'apprezzo Lo recupero a capire Deve prendere Gozzi Deve prendere il chill Bravo Gohan Ti si vuole bene Ok Allora Facciamo così Dovremmo aver finito PG PSS Da usare Le Leza All Star Il team anniversario Chi hai? Che ne so io cosa c'ho Ma chi ti pare Basta che hanno Quei link Stai posto Basta che hanno Quella categoria Fai doppio goguza E mettici Chi ti pare dentro Allora Mi sa che mi tengo Gohan Qua Poi il fisico Lo metto a ruotare Eh però Potrebbe farmi Abbastanza male Semplice Basta non prendere La spesa Sul personaggio Sbagliato Hit tech Si prende troppo Di danno Eh non mettere Hit tech Metti qualcuna Un altro L'altro Le tocca Con Gohan Eh vabbè Ma c'ho l'abitudine Allora Io non so Cosa c'ho Tipo 3 di personaggi Che non hai Quindi è inutile Gioca L'LR Principalmente Guarda ma se mi fai un po' di odd Stiamo abbastanza Safe con le special Sono vedo Con 200k Forse mi fa burro Bravo Gohan Bravo mamma Grande Gohan Bewoken Niente terzo Ok Se è rinde Mi sa che si sta Per prendere Un po' di special Oh si Buono Ottimo Niente crit Niente terza Ok Oddio Non so il fisico Quando prende Prenderà Se dovesse essere una special Prenderà Non è una special Perfetto Provo a fare così Per cercare di shottare Lo sto tour C'ho pure il buff Vai Sei l'int Sei tutti noi Non hai fatto tutte le missioni Eh tu perché non hai fatto Un team contro Copio il mio team Scusi Tanto ne bastano Tre Da richiesta Ti pareva Oh la special qua Potevano aspettare Se lì In te Che shottavo un attimo Gohan Danni gratis Un crit Un crit Uguale Uguale Ma è impossibile Mi sono fatto Pure i calcoli Cioè Tre target Tre droids E tre androids Saga Come hai fatto A non fare tre missioni Quindi mi devo provare I cazzi miei Ecco così Ma che wish Wish Direi per la fine Ma Perché il mio Gohan Hai vosto Forse L'avrò buildato Per qualche Evento Del cavolo Prima Delle Lei che c'è Vagione Passiva Ok Va bene Snake Va bene Snake Unico problema Era la spesa Sull'STR Ma era un attacco Su 20 Che ne faceva Come dire A build Se tre Va ancora Di salvo No no Ma se tre Va per C'ha I cosi Come cazzi Le orb C'ha L'unica evasione Che può avere È per le orb Ma diciamo Che non sono così Disadattato Non mi preoccupate Ah due eva Con le orb Per dire Manco Manco tre Hai attivato Le due eva Figo Allora Io devo tenere Le turnazioni Per la fase finale Quindi facciamo così Io farei Una 12 E attivare Un altro Snake Per dopo Vado Only Whis Io se c'ho Evasione Su determinati Personali È solo Per le orb Chissà Dovevo fare Qualche evento Di figlio Forse Preferivo Che evadeva Piuttosto Che altro Gli androidi Hanno preso Un bel po' Di orb Spero ce la faccia Se non ce la fanno Ma in realtà è differente Sì C'hanno sei migliori C'hanno sei migliori Io mai devo Sta zitta La prossima volta Una di vita Eh niente Grazie Come sempre Del resto Non era una mia rana Sennò Non eravamo Contenti E copriamo HP Mi faccio Reset F Più su Gona Che ti devo dire 3.12 Si è riattivato What? Si si è attivato Due volte Il 2 di Eva Ma che cazzo Ma? Non facciamoci domande Che è me Vai Questo cosa Mi va Shotta Se non Attivo Whis Perché c'ha la mamma Che lavora In tangenziale Io faccio così E qua abbiamo Una bella Tornazione Bella Aggressive Mi piace Mi piace Mi piace Questa tornazione No Poi 2% Per questo Mi chiedo Come cazzo Si si attiva Due volte Di più 2.5 5 Poi c'ha 20 milioni Di vida A sto cosa A occhio e croce Attenzione Special Su self fisico Post special Non so Manco se c'è Reset attack Mi pare Si Posso dire Una caponata Pensavo Peggio Devo parlando Di self fisico Vabbè Si E imploso Gona Poverino Ma Ha imploso Malissimo Un altro turno Lo fa Per Non so Per simpatia Forse 3 barre vita E l'ho Graziato 3 barre vita L'ho Graziato Addirittura Mi posso permettere Di fare Questa cosa Borischiosa Per il content Signore Per il content Con un wish Non l'attimo Mangola Come si chiama Collection Of epic battle Fammi la special Vedete il counter Dei bastardi android No Ciao Sosso Buonasera Vabbè Andato Qua basta Un crit Grazie E se Finisce Il lavoro Devi rischiare Non ho manco Quale sia la special Che il gioco Mi vuole bene Dopo che l'uno Di vita di prima Uno di vita Di nuovo Andato Finisce Finisce Grazie.